Il principe William è la notizia che ha sorpreso tutti, una notizia che ha scosso il mondo e ha riempito di gioia i fan della famiglia reale britannica. Kate Middleton e il principe William hanno recentemente dato una grande notizia che ha destato molta curiosità. A sorpresa è stato proprio il principe William a rivelare i dettagli di questo evento speciale che ha suscitato l'entusiasmo dei media e dei sudditi. La notizia ha lasciato tutti senza parole, ma ha anche rafforzato l'immagine di una famiglia reale sempre più vicina al pubblico. Kate sta molto bene ed è stata formidabile durante tutto l'anno. Il principe William ha deciso di condividere la notizia in modo molto speciale, facendo un annuncio ufficiale che ha subito catturato l'attenzione internazionale. La coppia reale ha accolto una nuova opportunità che segna un importante passo nella loro vita pubblica e privata. Sebbene i dettagli precisi siano ancora pochi, è chiaro che la notizia riguardi un progetto significativo, tanto atteso e che coinvolge direttamente la loro vita familiare e le loro attività filantropiche. Una sorpresa per i fan. Il futuro della famiglia reale. Questa notizia arriva in un momento di grande attenzione per la famiglia reale britannica. Dopo vari eventi pubblici e impegni legati alle loro iniziative sociali, Kate e William continuano a consolidare il loro ruolo all'interno della monarchia. Con il loro impegno per il benessere sociale, la cura dell'ambiente e il sostegno a molteplici cause umanitarie, i duchi di Cambridge sono sempre più ammirati dal popolo. Cosa significa questa notizia per il futuro della monarchia? La notizia di William e Kate potrebbe rappresentare un passo importante verso il rafforzamento del loro legame con il pubblico e un segnale di continuità nella tradizione della monarchia. L'annuncio ha suscitato entusiasmo facendo parlare di un futuro promettente per la coppia e per i loro figli che continuano a crescere sotto l'occhio attento del pubblico. Concludendo, la splendida notizia di Kate e William si aggiunge ai tanti momenti positivi che la famiglia reale sta vivendo, portando una ventata di speranza e affetto tra i sud.